Mario, che ci fai ancora a sveglio? Nonna, perché le persone scappano dal proprio paese? E che ci dovevo dire? Che il mondo è difficile. Tu sempre con queste frasi che non dicono niente. E tu? Non si saluta? Dove vi hai tutte queste pezze di veniamo, Mario? Le ho trovate. Grazie, forse ho capito. Perché bisogna mettere d'accordo tante teste per salvare delle persone? Non basterebbe salvarli? Potrebbe essere facile, ma non lo è. I cristiani certe volte sottinte. No Grazie a tutti.